dunque perché dovresti o potresti utilizzare raspberry all'interno del tuo cabinato arcade questo è un po il tema del video ovviamente non vi do la risposta subito perché voglio arrivarci spiegandovi dandovi delle spiegazioni più che altro portandovi i miei ragionamenti che ho fatto per arrivare a quel punto lì che poi ragazzi non si tratta di un punto di non ritorno assolutamente è un punto è un po una prova che sto facendo qualcosa che sto sperimentando questi ultimi giorni e quindi insomma volevo appunto portarvi anche dirvi la mia insomma no allora e innanzitutto voglio fare una piccola precisazione io non sono un amante del raspberry ho sempre ritenuta una scheda per me parlo per me inutile non ho mai trovato un senso non sono mai riuscito a capire come poterla sfruttare probabilmente perché non ne ho la necessità non ho necessità particolari evidentemente non lo so la cosa che mi dà più fastidio di tutte è che questa questa base quindi questo raspberry negli ultimi anni è stato associato purtroppo all'emulazione è stato associato al retro gaming al gaming e ragazzi non è così cioè il raspberry è una base hardware nata libera per essere sfruttata in varie situazioni in vari modi per dare possibilità a sviluppatori terzi ok di appunto creare software che poi vada a sfruttare appunto questo tipo di hardware ok ma non è nato per giocare cioè non è che è nato per retro pi e per farci giocare con i giochi vecchi no assolutamente non c'entra proprio niente questa è una cosa brutta una brutta associazione che veramente mi dà un po fastidio quando sento parlare di raspberry retro gaming raspberry emulazione non è così ragazzi non c'entra proprio niente è una possibilità ma sembra quasi non c'è viene fatto passare un po il discorso che sia la prima cosa emulazione e dopo c'è tutto il resto no c'è gente ad esempio che usa il raspberry per controllare una stampante 3d da remoto ad esempio c'è gente che usa raspberry come fosse un server nas per esempio e c'è gente che usa raspberry per giocare lo capisco ma non è la cosa fondamentale che poi negli ultimi anni veramente hanno sviluppato molte cose per il gaming però non è quello ragazzi non è quello ok quindi io non nutro nessunissima stima nei confronti di questo raspberry ma non me ne frega proprio nulla è una hardware che detesto e detesto tuttora ma una cosa mia tranquilli tu lo puoi anche amare ma sono cavoli tuoi io dico quello che penso no allora questo era il piccolo la piccola premessa e ecco adesso voglio farvi ragionare un attimo ragionare anzi vi porto i miei ragionamenti che ho fatto per arrivare appunto a questa cosa qui quindi utilizzare un raspberry all'interno di un cabinato arcade allora circa un mese e mezzo fa per chi non mi segue per chi non mi conosce vi faccio un attimo un piccolo rassunto mi è stato donato un cabinato arcade tenete conto che io sono esperto per quanto riguarda cabinate arcade in parte perché lo faccio di lavoro proprio in parte perché comunque non già posseduti due in passato io circa 15 anni fa ormai avevo un magnum e negli anni successivi ho avuto anche un rite legno 2002 entrambi li ho modificati con all'interno un pc con il meme con la jamma sd con magari soft 15 con una scheda ati che era compatibile con tutto quanto il discorso cioè capite con magari mi è capitato un periodo di utilizzare anche un arcade vga insomma io tutte quelle cose che si usavano al tempo ragazzi io le ho utilizzate tutte ok quindi mi sono fatto una un'ottima gavetta al tempo quindi parlo perché le cose ve le so quindi ve le dico perché le so non perché me le sto inventando ok dopo anni diciamo di assenza di cabinati perché poi negli anni l'ho venduti questi li ho venduti 9 10 anni fa ormai adesso appunto mi è capitato di portare a casa questo cabinato arcade questo montanari quindi si tratta sempre di un cabinato generico un pronto scheda mi è stato donato quindi non ho dovuto spendere un centesimo tanto meglio visti i prezzi dei cabinati arcade oggi che sono folli che è una follia totale e senza una logica perché sono cose che non valgono nulla stiamo parlando di pronto scheda però è non di un cabinato di street fighter 2 del cabinato di paper boy del cabinato di mortal kombat no quelli hanno un valore di un certo tipo ma i pronto scheda sono zero assoluto comunque vabbè e portato a casa questo cabinato mi è arrivato con le lcd mi è arrivato con la planche un po disastrata io l'ho restaurato o meglio ripristinato un po come fossi in origine quindi ho buttato via l lcd ho messo un crt la planche l'ho modificata ho sistemato l'eggettoniero sistemato il discorso delle casse audio e dicendo adesso lì a posto però appunto mi mancava qualcosa da mettere dentro allora la mia scelta era o un computer come al tempo che però vabbè mi sembrava un po sprecato oppure quel era quello di sfruttare quello che appunto abbiamo già in casa io oltre a due computer cioè uno vabbè collegato qui succedenti qui e questo non lo tocco perché mi fa comodo qui qui ne ho un altro appunto che è quello che utilizzavo prima di questo potevo usare questo computer però lo trovo un po troppo potente da tenere all'interno di un cabinato per giocare al sindaco capite e quindi ho detto cavolo aspetta io ho un raspberry p3 che fermo lì da anni perché non so che cazzo farmene bene posso sfruttarlo all'interno di un cabinato arcade per poi collegarlo un crt quindi 15 kHz e 240p risoluzione nativa pixel perfect tutto l'ambarada si può fare bene allora proviamo a farlo ok ottimo allora il mio utili c'è il mio la mia decisione è ricaduta più che altro in questo senso ok non mi andava ad utilizzare un computer ho detto proviamo utilizzare un raspberry anche per fare un test per capire certe cose mie così insomma ci stanno anche per cambiare un po sperimentare cose nuove diciamo bene adesso però una volta scelto raspberry ragazzi vi dico anche questo ho dovuto fare un'altra ho preso un'altra decisione un po drastica diciamo no allora i cabinet arcade pronto scheda comunque sono cablati jamma ok bene però il problema mio è che con raspberry il raspberry connettore jamma non si possono collegare per collegarli esistono degli schedini apposta però non mi andava di investire soldi per questo progetto perché la mia idea era quello di utilizzare tutto quello che ho in casa che ho tanta roba ho tanto materiale arcade fra pulsanti joystick cavi schedini cose varie ok e quindi di spendere il meno possibile ok bene perciò ho detto qua c'è un problema c'è l'interfaccia non mi va di comprarla perché spendere quei che ne so 80 euro in più non mi sembrava il caso no oltretutto non ho neanche un monitor arcade dal momento perché sto utilizzando un televisore quindi il televisore non è collegato sul collettore jamma perché non essendo un monitor arcade ok quindi avrei un modo cioè dovrei comunque bypassare il video al di fuori del cablaggio jamma per vedere qualcosa quindi anche lì avere un cablaggio jamma e non utilizzarlo appieno è un po castrato no vabbè poi comunque vabbè nel cablaggio jamma abbiamo la plancia quindi pulsanti tasti va benissimo ok per carità però comunque con il ragazzi nel 2024 con le tecnologie gli schedini gli hardware le cose così le periferiche che sono state che si sono create negli anni non siamo più costretti ad utilizzare un cablaggio jamma per far andare un cabinato arcade questo discorso che vi ho già fatto in una delle live mie vecchie ok perché ad esempio allora per quanto riguarda i controlli quindi pulsanti e joystick si possono tranquillamente e gettoniere si possono tranquillamente utilizzare due schedini zero delay ok sono quelli cinesi che si trovano su amazon aliexpress dove volete ok e quindi lì siamo a posto per quanto riguarda il crt nel mio caso avendo un televisore mi basta semplicemente un cavo vga scart per dire e basta sono a posto quindi i due schedini escono con due cavi usb e diventano due joypad e vanno collegati sulle porte usb da raspberry e cavo g a vga scart parte da raspberry e va direttamente crt adesso voi direte ma il raspberry non ha l'uscita vga infatti fra le cose che ho in casa ho anche la vga 666 che non è altro che un'uscita vga per il raspberry ok quindi sfruttando quella schedina lì e il cavo vga scart che ho già in casa ok posso collegarmi direttamente a televisore quindi io praticamente fin qui la mia spesa è stata quella di 30 euro di televisore e 15 euro circa di mdf 16 euro per rifare la plancia basta no anche un po anche l'adesivo a carbonio quindi no forse una una sessantina di euro sì una sessantina di euro speso in tutto per ripristinarlo come fosse originale quindi pensate un po la mia spesa è stata propria è proprio minima è stata ma è quello in realtà che volevo fare cioè io volevo utilizzare quello che avevo in casa perché sono pieno di tasti di joystick di molle di introduzione moneta o di tutto gettoniere cioè quindi ho detto perché non sfruttare quello che ho già fermo no senza comprare cose in più e appunto ho fatto anche questa cosa qui ok e quindi ho scelto di togliere il cablaggio jamma quindi al momento il mio cabinato non ha più il cablaggio jamma perché non mi serve se poi un giorno mi servirà ancora perché magari ci metto dentro un monitor arcade decido di fare altre cose di renderlo più reale ancora bene dopo ragazzi se voi avete siete dei collezionisti di pcb avete tante pcb in casa jamma vi piace giocare in real hardware con le pcb e tutto allora è ovvio che non potete farlo dovete mantenere il cablaggio jamma no comunque adesso ne stiamo parlando di raspberry in questo caso e quindi questo è quello che ho fatto ok ecco adesso l'altro discorso era questo di appunto capire che tipo di sistema operativo utilizzare su questo raspberry ok allora ce ne sono vari sono negli anni sono stati creati vari sistemi e ve ne dico così a grandi linee più famosi e ma poi bene o male sono quelli allora abbiamo questo rgb p che però qual è il problema che necessita l'acquisto di un'interfaccia proprietaria personale altrimenti non può funzionare non si può vedere nulla o meglio si vede male io l'ho testato quella vga 666 praticamente il risultato è che manca un colore e in più l'immagine è un po disturbata c'è una striscia che passa di continuo ecco quindi non si può utilizzare poi ho visto un tipo comunque che su youtube ha fatto ha modificato il vga 666 e per renderlo compatibile con rgb p però vabbè sono bisogna fare un miliardo di modifici di saldature sinceramente non avrei anche voglia di farle quindi via so che c'è anche una versione di retro poi ho visto che voi piace tanto retro poi modificata per uscire già in teoria in 15 kHz ma comunque sto parlando di qualcosa di non ufficiale e penso anche vecchiotto ormai che non neanche aggiornato cioè non ha un riferimento ufficiale quindi non se sa bene ok e poi abbiamo ciò che c'è un rg buntu qui dovrebbe essere base con base appunto sistema ubuntu però anche quello lì sinceramente non sono neanche sicuro che esista proprio per raspberry e su questo non sono sicuro perché ad esempio anche battocera il battocchiera si può installare dappertutto veramente su tutto di più si può installare battocchiera anche su raspberry però non ti dà la possibilità di uscire in 15 kHz su raspberry quindi anche lì insomma capite è un po' un peccato non si può utilizzare su pc invece abbiamo lo script famoso però è sempre una cosa non ufficiale diciamo quindi vabbè c'è poi ho visto un altro sistema un mk4 si chiama proprio come fosse morto al combat 4 però vabbè anche lì non lo so poi esattamente sempre su raspberry che sembra funzionare ma su tutte cosette ragazzi così che non hanno riferimento serio non hanno delle fondamente solide ok tutto un po' campati in aria e tutto un po' sempre da ricercare di andare su siti dentro siti su siti traversi tramite gruppi telegram cioè veramente un po' un disastro e invece appunto cercando meglio sono incappato in questo questo recalbox che in realtà non è niente di nuovo perché chi usa battocchiera non è altro che battocchiera deriva da recalbox in realtà ok e quindi abbiamo il solito emulation station il solito retro arc con i suoi core per quanto riguarda l'emulazione e come sistema abbiamo il solito un assolito distro di linux x che adesso non lo so non mi interessa ok quindi la base comunque linux e però questo sistema ha diciamo una particolarità che è la seguente cioè ci dà la possibilità cioè ci lascia molto liberi per quanto riguarda riguarda la scelta di come collegare il raspberry al nostro televisore allora mi spiego meglio abbiamo la possibilità di scegliere tra varie interfacce ad esempio io ho la vga 666 benissimo recalbox ti dà la possibilità di utilizzarla per collegarti al televisore mentre rgbp non te lo fa fare perché ti obbliga a comprare la sua interfaccia con recalbox non c'è bisogno ti lascia il libro di utilizzare la tua vga 666 per esempio oppure possiamo scegliere anche di usare l'interfaccia della rgbp se già ce l'abbiamo in casa capite quindi possiamo selezionarla e sfruttare quella abbiamo anche la possibilità se vogliamo quella di acquistare le due interfacce che ci offre recalbox una si chiama recalbox rgb dual che praticamente aggiungono un'uscita scart al nostro raspberry e l'altra è praticamente il recalbox rgb jamma che praticamente è un'interfaccia jamma dove appunto possiamo collegare il raspberry al connettore jamma del nostro cablaggio del nostro cabionato arcade capite in quel caso si può mantenere il cablaggio jamma solo che questo richiede una spesa in più capite quello che non volevo fare io no anche se poi qualcosa ho dovuto fare comunque ma poi vi spiego la più amanti quindi da questo punto di vista recalbox è molto libero ok e ci dà molte possibilità quindi voi potenzialmente se avete un raspberry con 15 euro di vga 666 potreste già potenzialmente collegarlo a un televisore vi manca vi manca chiaramente un cavo vga scart vabbè o ve lo comprate o ve lo fate potete anche farvelo e con una spesa minima insomma riuscite a fare questa cosa quindi diciamo per questo vi dico se avete un raspberry dovete o potete utilizzarlo perché è già tutto pronto ragazzi non dovete fare cose strane non dovete lanciare script non dovete modificare file di configurazione non dovete modificare stringhe di test non dovete aggiungere risoluzioni fare nulla di tutto ciò con recalbox praticamente possiamo già fare tutto in modo praticamente nativo perché basta entrare nel menu selezionare la nostra interfaccia d'uscita si riavvia e lui parte tranquillamente in 15 kHz con la risoluzione nativa per i giochi fa tutto in automatico senza nessun problema quindi ragazzi capite che per quello vi dico di utilizzare una base raspberry per questa cosa qui all'interno insomma di un cabinato arcade perché abbiamo delle possibilità ok di sfruttare questa cosa quindi prima di pensare già a un computer possiamo optare per questa schedina qui capite ecco questo qua è il sito ufficiale vedete che comunque a differenza degli altri diciamo degli altri sistemi abbiamo un sito fatto in un certo modo ok c'è un vedete abbiamo una home abbiamo un patreon addirittura e abbiamo appunto i loro prodotti questa è la risb dual eccolo qui vedete che aggiungiamo un'uscita vga e un'uscita scart abbiamo la risb jamma che sarebbe appunto questa questa scheda qui no qua non ci fa vedere nulla però comunque vabbè vediamo se ce la fa vedere qui no comunque c'è questa scheda per collegare il raspberry al 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 nostro coballaggio jamma del cabinato capite abbiamo appunto poi la sezione download compatibile con diciamo allora raspberry vedete con il 5 il 4 il 3 il 0 2 0 1 il 2 ok poi altre cose qui compatibile con qualcosa di portatile al amber amber nick via dicendo ok quindi o droid insomma c'è qualcosa compatibile per chiaramente pc e per lo droid proprio altre console portatile che sfruttano lo droid che è un'altra schedina no tipo raspberry per dire per intenderci no ecco è un sistema questo qui aggiornato perché l'ultimo aggiornamento è il 9.2.3 che l'ho fatto circa il mese scorso neanche e quindi insomma ragazzi abbiamo qua un negozio quindi questo è lo shop chiaramente vedete questa è l'interfaccia per il jamma che vi dicevo e vendono anche volendo un cavo questo è un cavo scarto normale e vabbè insomma vendono un po' di cosette che adesso non voglio entrare nel merito abbiamo un blog dove fanno degli articoli abbiamo la sezione guide ok vabbè guide sono cose un po' così la sezione forum dove potreste trovare delle soluzioni ai vostri problemi che comunque ragazzi questo sistema non è esente da problemi perché è pieno di bug pieno di cose strane pieno di cose che non hanno senso purtroppo è così però spero che col tempo insomma vadi sempre a migliorare visto che viene aggiornato abbiamo una documentazione quindi qui abbiamo un po' di sì come fossero delle specie di guide insomma sempre relativa a tutti gli emulatori e cose varie ma magari questo lo vedremo più avanti nel tempo abbiamo la sezione FAQ ok quindi domande principali sistemi supportati qui ci sono i vari core diciamo emulatori no non sono sistemi sì le piattaforme supportate insomma che vengono emulate diciamo no con Recalbox quindi c'è tutto c'è sempre la solita cosa ragazzi dall'arcade alle console ecco solita cosa ok bene questo qui è quanto quindi diciamo che al momento io mi sto trovando diciamo abbastanza bene ok ripeto abbastanza perché bisogna un po capirlo ci sono varie dinamiche situazioni è da capire è da capire poi comunque ha tutta una serie di problemi non indifferenti anche perché dici fai una cosa è molto semplice invece poi va subito va poi non va più cioè capite sono sempre quelle cose un po strane ma sono cose normali che succedono anche con batocchiera con retro pie con tutti questi sistemi sono molto buggati devo dire molto molto buggati e poi ci faranno insomma gli aggiornamenti del caso capite e questo qua un po è un po quanto quindi era appunto per darvi un input e dirvi se avete un raspberry in casa e volete provare ma non serve cioè ragazzi non serve avere necessariamente un cabinato arcade però già che avete un televisore crt in casa e avete un raspberry fermo in casa valutate e provate a fare questa cosa così insomma potete poi giocare in maniera ottimale sul vostro crt ok ecco questo qua è un po' il quanto quindi al momento io sto usando recalbox perché fra tutti i sistemi mi sembra che sia quello più gestibile ok soprattutto per quanto riguarda la velocità e la semplicità per fare questo collegamento fra raspberry proprio e televisore ok senza fare cose strane vi ho già detto no modifiche stringhe file di configurazione script casini vari no qua non ci non serve niente è già tutto quanto pronto bene allora dai ragazzi tanto abbiamo fatto questa bella chiacchierata visto che a me piace parlare e se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale attivate la campanella così quando pubblico qualcosa di nuovo vi arriverà una notifica se volete seguirmi faccio ogni tanto delle live su youtube e basta ragazzi dopo da qui in poi allora poi ragazzi vi farò comincerò a farvi dei tutorial ok partiremo dall'installazione di recalbox dalle impostazioni di recalbox consigli vari cosa fare non fare ok in base a tutte le mie esperienze insomma che sto sperimentando anche in questi giorni sono sempre sono ancora in via sperimentale perché si scoprono sempre cose nuove e niente ragazzi quindi con questo è tutto vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima iscriviti al canale